Questo messaggio è per chi pensa che loro siano già tra di noi. Se cercate la verità vi aspettiamo alla conferenza alle coordinate in sovraimpressione. E questa è la mia vera voce. Stai già registrando? Ok, andiamo. Guarda che facciano questi. Boh. Tutto è un complotto, tutto è un imbroglio, nascosto sotto c'è un grande scoglio. Quello scoglione forse sei tu, vuoi la ragione. E allora su. Fatti inculcare assurdità, diventano Vax coi tuoi simpatici no maschi. Fatti inculcare teorie di cerchi e di scie. Chimiche. Fatti inculcare il pensiero che non la sia vero. Gli alieni sono già qua, ci spiano coi droni, che due massoni. Ma va a farti inculcare. Pol non c'è più dal 66. E ancora su, il terzo Reich. Siamo comandati dagli illuminati. E sulla luna non siamo mai andati. Fatti inculcare assurdità, diventano Vax coi tuoi simpatici no maschi. Fatti inculcare teorie di cerchi e di scie. Fatti inculcare. Fatti inculcare il pensiero che non la sia vero. Gli alieni sono già qua, ci spiano coi droni, che due massoni. Tu ma va a farti inculcare. Inspira, cospira, inspira, cospira, inspira, cospira, inspira, cospira. Se dico casta, dico letizia. Se dico lobby, ti dico frodo. Se dico setta, ti dico lotta. Se dico e piazza, per me era quinta. E quando spegni internet, tutto vola via. Ogni complotto, vola via. Ogni complotto, vola via. Ogni complotto, sì. Fatti inculcare. Qua è entrato...è dentro. Incazzatura. Chi? Entra di nuovo il giornalista, ritorna dentro. Inrompe. E io sono così... E ci incazziamo... Ancora? È tornato! Che cassa porra! Ma dove è cassa? Ma non farlo adesso, aspettiamo di... Sai come scagli, dai la molla! Questa è un ottimo backstage E' lui, e' lui Porca tronca